Ma che culo, ma che culo, ma che culo e merda che tenono, non culo proprio incredibile, incredibile, non culo proprio egli culo, ma non culo che più culo non ci sta, non culo che più culo non ci sta, voi li sottovalutate voi, voi li sottovalutate, siamo d'accordo che la squadra è il greco, ma mi metto paura che la chiappa è in coppa panchina, quell'uomo sulla panchina tiene una chiappa, tiene una chiappa quando tutto diva in casa mia, mamma mia che ammazza, che ammazza è scassato, vuoi andare all'Urda, all'Urda vi dai, facci paura, e contro Milano autogol, mezzo tira un porto e vincere la partita, chi li indiesce uomini se fai tappo e vincere la partita, stasera un gol dal 96, ma hanno contro Verona, contro il Real Verona che sta perdendo, con tutto quanto sta perdendo, contro il Real Verona, al 96, palo e gol, chi li ha? Gho pallini ai porti, no? Gho pallini ai porti, li sciopalloni, mamma mia, guarda, io, quell'uomo sulla panchina, non è che è un fortunato, è benedetto, è il prescelto del Signore, quello lì, altrimenti non si spiega, ma prima o poi tutto ciò ritornerà, perché come rica siamo in due pallone, la ruota gira così, ma non c'è punto, a diventare a fare così, a cominciare a fare, e prima o poi cominciare a fare così, tutto questo culo lo pagherai, prima o poi lo pagherai, poi non mi vorrei a dire, siamo stati sfortunati, e non solo stasera contro Milano l'ho detto, è con l'Atalanta, con l'Atalanta è nata una partita che non dovevi pareggiare e ti fregatono punti, vedi quanti punti, vedi quanti punti in più hai, che non dovresti avere, che non dovresti avere, mamma mia, mamma mia, ma come si fa, come si fa a vincere una partita così, cioè l'interno è una partita del genere, non avessi mai vinciato, l'interno è una partita di questa, se io guardavo fino al martedì, non la vincevo, perché noi, per vincere una partita, dobbiamo creare 40 palle e gol, poveri se facciamo uno, chi sticcava 8 pallone in mezzo, con pick up, palo, palo, ho difensato un liscio pallone con palini e porto, o portare la smanaccia a mettere un povero per cambiare, no vabbè, io, io veramente ho visto tutte cose, io ho visto tutte cose in tuo pallone, ma fino a questo punto, fino a questo punto non pensavo, non pensavo se potessi fare una cosa del genere, mamma mia, alle, alle, Massimo, Massimiliano, come ti chiamo, io, come dico ogni anno, volessi avere un quarto raffortunatoi, manca a metà, ma contendi un quarto raffortunatoi, perché vinci delle partite, che solo tu puoi vincere così, solo tu puoi vincere così, veramente, io ho mai visto, ma nessuna roba del genere, che poi, rispetto alle altre uscite, che sta partita è stata uno poco meglio, perché ci sono stati due gol di Ken, giustamente annullati, uno per mezzo tacco, un millimetro, a regola che dici, un millimetro è fuori gioco, quindi silenzio, la regola è regola, non si discute, un metro, un centimetro, un millimetro, è sempre fuori gioco, è la regola, spiace, poi, secondo quello annullato, c'è una manata muc, vuole fare, manata muc è fare, cioè, di cosa vogliamo discutere, anzi, complimenti all'arbitro, arbitro migliore in campo, finalmente, ancora c'è qualche arbitro, che non si lascia intimorire dall'ambiente, e arbitra come Cristo comanda, quindi, complimenti al direttore di gara, Feliciani, classe 91, quindi, è una nuova leva, non l'ho mai vista in Serie A, sicuramente avrà fatto qualche altra partita, però, insomma, è la prima volta, secondo me, che arbitra la Juventus, e l'ho apprezzato, l'ho apprezzato, l'ha arbitrato molto bene, però, dicevo, è una Juve che ha creato più del solito, perché, anche quando è entrato Chiesa, ha dato una sterzata al match, ha creato qualcosa, insomma, ci sono state le occasioni per andare in vantaggio rispetto al solito, perché poi, io mi ricordo, Juve, Lecce, mezzo tiro in porta e vince la partita, Atalanta-Juventus, zero tiro in porta, Milan-Juventus, mezzo tiro in porta, quindi, è chiaro che, se facciamo un paragone rispetto alle altre partite, diciamo, questa è stata una Juve più accettabile, più accettabile nel senso che ha giocato, ha tentato di vincere la partita, e alla fine, con il classico colpo di chiappa sull'ultima azione, la vince. Però, mi chiedo, quanto durerà? Quanto durerà? Di una cosa, però, ne devo dare atto, che, difensivamente, sono solidi. Difensivamente, subiscono pochissimo. Chioverone, stasera, un'occasione ha avuto, a fine primo tempo con Bonazzoli, che Chiesa ne ha fatto una grande parata, per il resto, non pervenuto. Occasioni del gol del Verona, zero, anzi, uno, soltanto Bonazzoli. Mi ricordo Juve-Lecce, o Lecce non si avvicina ai mangi dall'area di rigore. Milan-Juventus, in Milan, in dieci uomini, ci sono le attenuanti, una palla-gol, quella di Giroud. Atalanta-Juve, l'Atalanta meritava la vittoria, ebbe delle occasioni, più che altro nel finale di partita, però anche lì riuscì a non prendere gol. Quindi, il campionato italiano cosa ci insegna? Che, alla lunga, su 38 partite, solitamente vince la miglior difesa e chi ha più chiappa. Siccome, in questo momento, la Juventus ha entrambe le componenti, in più non ha le coppe, ecco perché dico che questi qua, zitti, 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 fanno il loro cammino. E sorrido, sorrido, quando il loro mister dice ma noi dobbiamo rientrare nelle prime quattro. Allè, tu forse ne capite? Che, senza coppe, rientrare nelle prime quattro cioè, è la normalità, cioè, deve essere proprio una cosa scontata rientrare nelle prime quattro. Perché, senza coppe, se non rientrassi nemmeno nelle prime quattro, tu, a vista che andiamo stile, a vista che fai un fravacatore, l'itraulico, anche l'avvocato, tè sciovec, giacca e cravate, si bellill, ma non potresti fare più l'allenatore di pallone. Quindi, tra le prime quattro, è una cosa ovvia, è una cosa evidente, perché poi tutte le altre, comprese Lazio, Roma, Atalanta, eccetera, eccetera, si vanno a sparcare le gambe in settimane. Quindi, fai meno l'ipocrita, dici, noi giochiamo per lo scudetto, e stasera, almeno per una sera, almeno per una notte, si spera, ti sei preso il primato. A botta di chiappa, a botta di solidità difensiva, è una Juventus che si prende il primato. E concludo, concludo dicendo che questa è una squadra sotto il profilo del gioco, criticata da tutti. Cioè, è impossibile apprezzare il non gioco di questo pseudo allenatore. Però, se questa squadra attualmente è prima in classifica, è vero, ha una partita in più, ma se non è prima, è seconda. Se non è seconda, magari è terza, ma sta a mano punto di punto, comunque sia, se è lì sopra, con questo gioco, significa che il campionato italiano va avanti sempre, verso quella direzione. Se non giochi, non subisci gol, sei difensivo, e parti in contropiede. È un calcio che paga. Evidentemente, l'opseudo allenatore, questo l'ha capito anni fa, e sta portando avanti la propria teoria. Ma sono altresì convinto che questa stessa squadra, con un impegno infrasettimanale, non avrebbe tutti questi punti. Perché comunque sia, il fatto di giocare in settimana, che sia martedì, mercoledì o giovedì, ti porta via delle energie fisiche e mentali. Con questo passo è chiudo, lasciate un like, iscrizione al canale, già so i commenti che arriveranno. Rosica! 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 Eh, ma sono contento che ho venito dal 96. Sono contento solo per la bullet, che ho venito dal bullet. Con questo colo al 96, ho preso la bolletta. Di quello sono contento. Sono contento. Ma è normale che rosico, che c'è fatto? Devo risultare insieme a voi che ho disegnato dal 96. Non risulti insieme a voi. Quindi appuntamento al domani, in partenza per Milano, perché domani si va a San Siro a vedere Inter Roma per accogliere l'innominabile. Ma soprattutto per vedere la nostra grande Inter, sperando in una vittoria. Buonanotte! a tutti! Buonanotte! Buonanotte!